L'idea principale per il nuovo SUV C3 Aircross era quella di portarlo in un universo ancora più avventuroso, più SUV. Abbiamo inserito tutti gli elementi necessari per conferirgli robustezza. Il nuovo SUV C3 Aircross si distingue per la firma luminosa con proiettori su due livelli, collegati tra loro dai doppi profili cromatiche che si prolungano a partire dal logo. I fari hanno un design più deciso, più intenso, grazie alla tecnologia LED. La nuova protezione frontale è più scolpita e con inserti colorati su entrambi i lati, permettendo così un'ampia possibilità di personalizzazione del veicolo. Ci è stato chiesto di conferire al SUV raffinatezza ed eleganza. L'obiettivo principale era adottare rivestimenti interni per esaltare il comfort. Così abbiamo creato tre nuovi interni, tre nuove armonie. La prima è caratterizzata da diverse tonalità di blu, abbinate ad un tessuto dallo stile sportivo. La seconda gioca su una gamma di grigi, con una fascia effetto legno sulla parte alta degli schienali. E sopra questa fascia, l'impuntura distintiva della marca. Per la terza armonia, Hype Grey, volevamo una tinta che richiamasse il mondo vegetale. Perciò gli interni sono in pelle e la parte superiore degli schienali ha una fascia con un motivo a chevron. Grazie a tutti.